E allora come preannunciato diamo il via ai nostri collegamenti di oggi. Abbiamo già in linea Antonio Palmieri, fondatore e presidente della Fondazione Pensiero Solido che abbiamo il piacere di riavere con noi per fare con lui il punto su un altro grande tema di attualità, quello dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, grazie per avermi voluto ancora con voi e un grande saluto a tutte le persone che ci stanno guardando dalla fredda Milano. Grazie a te per la disponibilità a guidarci nel discernimento di uno dei temi di grande attualità. Oggi dicevamo a telecamere spente mentre non eravamo in onda che oggi si parla di intelligenza artificiale, quasi tanto si parla di crisi climatica, che è un altro grande tema, la sostenibilità. Per cui ti chiedo subito un punto della situazione anche in prospettiva rispetto all'evento che con Pensiero Solido avete organizzato per giorno 13 dove il focus sarà intelligenza artificiale e lavoro. In estrema sintesi diciamo che l'intelligenza artificiale continua a essere un argomento all'ordine del giorno perché impatta tutti i settori della vita. Questo è il tema di rimente a mio giudizio perché siamo davanti a una tecnologia che per la prima volta contemporaneamente agisce su tutti i versanti a partire da quelli tragici, tipo quello della guerra, per arrivare a quelli più buoni e più utili, tipo la sanità. Quindi in questo arcobaleno, in questo arco di situazioni, da questo deriva il fatto che sia sulla cresta dell'onda mediatica e anche per il fatto che impatta direttamente, potenzialmente, sul lavoro dei giornalisti e questo contribuisce a renderla ancora più notiziabile. Ecco, ne parliamo anche perché tante volte rispetto all'innovazione c'è un timore, c'è timore rispetto a quelli che possono essere gli usi appunto poi non proprio etici, corretti. In studio con noi c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, quando parli di giornalismo tocchi appunto un tema sensibile, Maria Pia intervieni quando vuoi. Grazie, innanzitutto certo è singolare che ci ha salutato e torno a salutarlo anch'io, il nostro gradito ospite dicendo dalla fredda a Milano perché aprile è stato il mese più caldo di sempre secondo gli indicatori che ormai risalgono a molti secoli fa perché si è cominciato... Ma non a Milano, a Milano no, Milano fa eccezione. Milano fa sempre eccezione. Aprile è stato come novembre, anche maggio è come novembre. Immediatamente, carissimo, vorrei entrare su qualcosa di più concreto perché abbiamo sentito da te già tante volte dei concetti molto anche rassicuranti in un certo senso per noi che non siamo la prima generazione, come dire, digitale. Però io ti chiedo, adesso che siamo sempre sul chivalà per due guerre che drammaticamente comunque ci coinvolgono, tu quando leggi le notizie riguardo appunto alla Russia, all'Ucraina, a Israele, alla Siria, al Libano, hai mai il dubbio che ci sia anche qualcosa di artificiale in quello che guardi? E come fai a toglierti il dubbio e a non sprecare tempo? Ma allora comincio a non sprecare tempo. Io cerco di leggere il minimo indispensabile da fonti autorevoli. Questo credo che sia il rimedio più a portata di mano di chiunque. È abbastanza all'antica come metodo. È molto all'antica come metodo da ventesimo secolo. Le cose buone e vere non invecchiano perché sennò altrimenti il messaggio che voi portate avanti, che è vecchio di oltre duemila anni, sarebbe già da mettere in cantina e seppellire lì. Non sai quanto mi fai contenta con questo, veramente. Ma è così e quindi di conseguenza si è sempre fatto così e a maggior ragione si deve fare così oggi in quest'era di ipercomunicazione e iperpossibilità comunicativa. Selezionare fonti per noi autorevoli e seguire quelle. Questo è un metodo, diciamo così, infallibile che fallisce solo naturalmente in un caso se sbagli la fonte. Questo vale per la vita e vale per la comunicazione e per l'informazione. Quindi questo mi sento di dire, accanto al fatto che comunque, qui cito Giovanni Paolo II, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo mai perdere la speranza perché chi ha fede, e lo dico in questo consesso, lo posso dire con assoluta tranquillità, sa che comunque in modi per noi spesso impescutabili le cose andranno a finire bene. nonostante il percorso che è spesso, e viene citato anche nelle scritture, come un travaglio. Ma mi sento di essere qui, adesso in veste di predicatore, cosa che non sono e quindi mi taccio. Stiamo riflettendo, stiamo riflettendo insieme. Mentre voi dialogavate pensavo a mia volta che l'epoca in cui viviamo ci spinge ad essere più consapevoli e responsabili come fruitori della comunicazione. Proprio per i motivi di cui si parlava dobbiamo avere un approccio più impegnato, nel selezionare, fare filtro, valutare, comparare, non prendere per buono tutto quello che impattiamo, anche molto velocemente, a volte anche distrattamente, attraverso i social. Ecco, i social sono un altro grande luogo in cui l'intelligenza artificiale può dirottare quella comunicazione sana di cui stiamo parlando. Qualche consiglio per l'uso, ecco, qualche istruzione per l'uso dei social consapevoli? Il consiglio anche qui è molto semplice. L'algoritmo dei social, che uso intelligenza artificiale non dall'anno scorso, non da un anno e mezzo, ma da molti anni addietro, è tarato a nostra misura. Per cui lo nutriamo noi. E quindi lo nutriamo noi con i nostri comportamenti online. Quindi, nuovamente, se io decido, facciamo un esempio a caso, di seguire Telepadre Pio nei social, l'algoritmo regista questa preferenza. Se io decido di seguire il Papa, l'algoritmo registra. Di conseguenza mi restituirà cose affini alle mie scelte. Io su questo punto insisto da molti anni, perché se è vero che le piattaforme e gli algoritmi hanno uno strapotere di orientare quello che vediamo, è altrettanto vero che però li nutriamo noi. e quindi, siccome sono tarati per adeguarsi alla nostra misura, più noi li nutriamo con cibo buono, quindi seguendo persone giuste, come torniamo al punto di prima, con comportamenti online adeguati, e più ci restituirà cose utili. Quindi, è termino, la formula è non essere noi al servizio dell'algoritmo, ma mettere l'algoritmo al nostro servizio. Assolutamente d'accordo con te, Presidente. Hai centrato proprio il tema. Penso che sia uno dei consigli da tenere più presente quando navighiamo, soprattutto sui social. La regia ci anticipava qualche istante fa la locandina dell'evento di cui parlavamo, quello di giorno 13, dove intelligenza artificiale si associa al mondo del lavoro. Come cambia? Come dobbiamo cambiare noi? Ti pregherei di dirci che cosa succederà in questo incontro che va al luogo lunedì 13 maggio alle 17.30 a Milano. Intanto la prima notizia è che potete, anche se non sarete a Milano con noi, seguirci in streaming sul canale YouTube della Fondazione Pensiero Solido. La seconda notizia è che questo è l'inizio di un percorso che durerà sei mesi, con un incontro ogni mese, tendenzialmente il secondo o terzo lunedì del mese, dedicato appunto a approfondire come dobbiamo cambiare noi, quale deve essere il nostro atteggiamento rispetto all'impatto che l'intelligenza artificiale ha sul lavoro. e ospiteremo in questo percorso sia le big tech, sia aziende italiane, sia esponenti dell'accademia, dell'università, della ricerca, sia giornaliste, giornalisti, comunicatori, comunicatrici, persone che riflettono, persone che hanno scritto libri sul tema, perché siccome siamo all'inizio, all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale generativa, di conseguenza ne vogliamo mettere assieme un caleidoscopio di riflessioni, non di opinioni, attenzione, non di pareri, ma di riflessioni e di esperienze che ci aiutino, torniamo al verbo di prima, a orientarci. Lunedì è il ca... è caduta la connessione e mentre ci stava ricordando il presidente di Pensiero Solido, Antonio Palmieri, che lunedì ci sarà questo evento e che possiamo seguire tutti in streaming collegandoci al canale YouTube della Fondazione Pensiero Solido. Non so se siamo riusciti a recuperare il collegamento, io ne approfitto per portarmi avanti con i ringraziamenti al presidente, perché eccolo, lo abbiamo ritrovato, ci siamo persi giusto? Ci sono, ci sono, sono inciampato, ma mi sono subito rialzato. Benissimo. Stavamo dicendo, stavo ribadendo l'invito a collegarci in streaming al canale YouTube di Pensiero Solido per seguire i lavori di lunedì e mi stavo portando avanti anche con le battute conclusive, facendo riferimento anche alla bellissima intuizione che avete avuto come fondazione di festeggiare, diciamo così, questa comunicazione intelligente, questa comunicazione buona, questa comunicazione costruttiva con un premio che, se non ricordo male, ha luogo in autunno, verso la fine dell'anno. Esatto, quest'anno lo faremo martedì 29 ottobre a partire dalle ore 18 al Teatro Filodrammatici di Milano, naturalmente sempre in streaming, e premieremo i comunicatori della sostenibilità. Domani metteremo online nel sito della fondazione, cioè fondazionepensierosolido.it e nel sito comunicazionecostruttiva.it il regolamento per partecipare al premio. Molto bene, e con questa ulteriore notizia noi giungiamo al termine di questa chiacchierata, ringraziandoti per la presenza, per la disponibilità, sapendoti amico di Padre Pio TV, quindi ecco, con la speranza di ritrovarci anche prossimamente, laddove anche tu stesso ne possa ravvisare la necessità, segnalaci notizie, aggiornamenti, informazioni che possiamo condividere col nostro carissimo pubblico. Antonio, un saluto. Grazie, io. Un saluto e... Anch'io. Mi riprometto di approfondire proprio l'aggettivo generativo con te, perché ha delle ombre, secondo me, in quel contesto. Adesso ti saluto, però, intanto. Noi approfondiremo quando volete e anch'io contraccambio i saluti e vi ringrazio per l'ospitalità, è sempre un piacere e anch'io saluto, come ha definito Tony, il carissimo pubblico, espressione che mi piace moltissimo. Eh sì, perché sono davvero tanti quelli che ci seguono da tutta Italia e che interagiscono quotidianamente con noi, per cui c'è un rapporto di affetto particolare e i collegamenti come quello che abbiamo appena fatto con te non possono che arricchire questo legame. Grazie Presidente, allora arrivederci a presto. A voi, arrivederci. E noi ringraziando e salutando il Presidente della Fondazione Pensiero Solido, Antonio Palmieri, restituiamo la linea alla regia per prendere fiato, ma ritorniamo subito con voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.